Troppi giovani si sono arresi alla ricerca di un lavoro e non fanno più nulla, nemmeno investire su loro stessi. Sono più di 5.000 nel Piacentino i cosiddetti NIT, persi nella zona grigia della sfiducia. A loro è dedicata la firma del protocollo d'intesa sottoscritto stamattina in municipio da comune e provincia. Sono comprese iniziative del Piano Garanzia Giovani, che puntano all'inserimento qualificato dei ragazzi e delle ragazze nel mondo del lavoro. Ci rivolgiamo principalmente ai NIT, diciamo a tutti quei giovani che non hanno oggi né un impiego né sono occupati nel mondo della scuola. Purtroppo sul nostro territorio sono veramente tanti, oltre 5.000. Cerchiamo attraverso il progetto Garanzia Giovani di dare a loro qualche possibilità in più. Previsti inoltre il sostegno alle attività informative, alle azioni di orientamento e alle attività seminariali. Promuovere delle attività seminariali, ma in particolare formative, promuovere la imprenditorialità giovanile, la creatività giovanile e soprattutto orientare i nostri giovani che hanno bisogno di essere sostenuti e non abbandonati nella loro ricerca di un lavoro che rappresenti la soddisfazione della vita. Non mancheranno con Centro a Spazio 2, la Cittadella della Creatività Piacentina, Focus Group e ulteriori attività. Sono numeri importanti.